non aveva mai avuto una famiglia non hai un posto dove stare stanotte una mamma andiamo non è mai stato piccolo big mike è come se non volesse fare male a nessuno solo per capirlo questa squadra è la tua famiglia michael sandra bullo quello è mio figlio premio oscar come miglior attrice protagonista the blind side mercoledì 21 e 10 canale 5